Il treno, espresso, 8, 2, 4, di Trenitalia, delle ore, 22 e, 46, per, Bologna Centrale, è in partenza dal binario, 2, ferma a, Orvieto, chiusi Chianciano Terme, Terontola Cortona, Arezzo. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.